Ciao ragazzi, ciao ragazze, come state? Tutto a posto? Ben ritrovati sul canale, bentornati in un altro video, un video che sicuramente a molte di voi farà piacere perché come potete vedere qui c'è una scatoletta, stiamo parlando dei prodotti terminati non sono in cucina, purtroppo ragazze di là questa mattina non era possibile fuori il tempo è bruttissimo, sta piovendo, la luce è quella che è, insomma non è particolarmente indicata però sto girando questo video anche perché le cosine sono un po' tante quindi è arrivato il momento anche insomma di buttarle ecco vi mostro subito i prodotti terminati cominciamo appunto da quello che fuoriesce qui che è una novità che fino adesso non avevo mai acquistato e si tratta di questo è il latte, più che il latte è una bevanda alla mandorla del marchio Fior di Natura è un litro e l'ho acquistato, aspettate che mi siedo meglio e questo l'ho acquistato ad Eurospin ed è della linea vegan allora l'ho provato, l'ho comprato perché onestamente piace tantissimo a mio figlio ma a lui piace ovviamente il latte alla mandorla quindi non so se lo conoscete quello della Dice non lo so chi lo fa, Condorelli insomma perlomeno qui a Catania queste due aziende è ovviamente un latte molto zuccherato un latte molto calorico ho voluto provare questo qua dell'Eurospin della linea vegan non che sia meno dolce o meno tra virgolette dannoso però quantomeno diciamo sono un attimino più ridotti i suoi gli zuccheri insomma i grassi e le fibre che contiene vi è piaciuto il sapore è buono l'ho assaggiato anche io voglio dire una volta tanto si può anche fare quindi questo qui è sicuramente un prodotto che vi consiglio quindi praticamente questo è un video di prodotti finiti più recensioni allora fuori il latte alla mandorla per passare invece a un altro latte normale Parmalat conosciuto e straconosciuto è un latte che io non acquisto quasi mai ma semplicemente era in offerta credo a 59 o 60 centesimi cosa che non si vede mai il latte Parmalat a questo prezzo oltretutto quello con il brick in questo modo con il tappo così e questo niente non c'è niente da dire un latte certo il sapore è molto buono procediamo e rimaniamo sempre in tema di brick e contenitori e vi parlo di questo succo d'ananas solevita che è frutta al 100% questo l'ho acquisto alla Lidl ha un sapore veramente buono 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 ed è molto concentrato quindi è uno di quei succhi di frutta dove appunto si percepisce e si sente pienamente il sapore dell'ananas è molto liquido quindi non c'è alcun pezzettino alcun diciamo rimasuglio di frutta e questo lo bevono molti miei figli soprattutto d'estate ma ogni tanto anche in inverno in alternativa al latte la mattina un bicchiere di questo soprattutto uno dei due piace veramente tanto e quindi anche questo ve lo consiglio altro prodottino sempre in brick continuando li ho riposti stavolta oltre il mio solito cesto che ho in cucina ovviamente li ho messi tutti all'interno di un'altra scatola è il mio classico latte di riso questo ve ne ho parlato tantissime volte in tanti video spesa l'ho acquisto alla Lidl è del marchio Milbona è un prodotto bio questo invece lo beve mio marito lo beve sia a temperatura ambiente sia riscaldato è un latte vegetale che difficilmente monta o perlomeno non monta come quello di soia o quello di avena quindi principalmente rimane così liquido magari lo si può insaporire con della cannella oppure dell'orzo certamente a chi piace lo beve quindi questo è un litro lo compro spesso a 1,19€ 1,09€ e ci troviamo veramente bene passiamo poi invece un altro prodotto ma stesso che non manca mai a casa mia e che appunto abbiamo terminato sono questi qua i fiocchi d'avena anche questi della linea amo essere biologico quindi questi li ho acquistati all'Eurospin sono vegani e sono appunto dei semplici fiocchi d'avena che io utilizzo sullo yogurt greco utilizzo con il latte d'avena lo utilizzo per fare il porridge insomma qui ne facciamo veramente un uso è un prodotto per noi versatile sotto tanti aspetti questi sono questo è un pacchetto è una confezione da 500 grammi proviene dall'agricoltura biologica se volete provarlo se insomma volete trovare una colazione alternativa i fiocchi d'avena vanno al vanno ok sono ok andiamo passiamo dalla colazione quindi dei latti a va bene quello che mi capita prima li pesco così a random ragazzi questo contorno grigliato che ho voluto provare questo qua coltivato in Italia ed è un contorno grigliato acquistato ad Eurospin sono 450 grammi di prodotti che vi devo dire chiaramente il gusto è buono però a mio avviso essendo appunto già dei preparati alimentari nonostante ci sia scritto grigliati non so hanno un cioè sono troppo buoni il sapore è troppo buono per essere un semplice contorno grigliato e quindi insomma povero tra virgolette ideale per una dieta mi sembrano troppo saporiti quindi o c'è qualcosa qualcosa non so di burro o altro che lo insaporisce intanto qui c'è scritto che contiene solamente patate zucchine aglio sale ciocchi di patate olio di semi di girasole l'amido di riso il peperoncino il rosmarino sono molto molto speziati quindi probabilmente sono tutte queste spezie che gli danno questo buon sapore comunque sia l'ho provato e non lo so onestamente non so se se lo riprenderò passiamo poi invece alla confezione dei simil pavesini così vabbè non c'è niente da dire aspettate che la confezione è tutta strappata comunque sono quelli della linea dolciando sono tale e quale ai pavesini appunto della pavese quindi della pavesi pavesi o pavese oddio non mi ricordo comunque non c'è niente da invidiare a quelli là autentici ecco un altro brick eccolo qua quello di cui parlavo prima è il latte di avena appunto sempre della linea amo essere biologico questi li acquisto tutti ad Eurospin quando vado ad Eurospin faccio sempre una scorta di latte vegetale latte di soia latte d'avena latte di riso adesso abbiamo provato questo di mandorla c'è anche quello di farro buonissimo quello di kamut questo è a basso contenuto di grassi ovviamente senza lattosio mi ci trovo troppo 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 bene procediamo sempre con la linea amo essere biologica il tofu al naturale ma noi parlo anche di questo prodotto in tanti video spesa è un prodotto molto ricco di proteine lo consumiamo anche questo per noi è un prodotto versatile da fare in tanti modi quindi da fare grigliato per cui alla piastra da mangiare al naturale o con qualche salsina con la salsa di soia insomma ci troviamo veramente bene continuiamo con i cereali questi sono dei semplici cereali che abbiamo preso alla Lidl perché quel giorno praticamente non ho trovato di solito i cereali che prendo sempre comunque il muesli che piace ai miei figli e ho acquistato questi sono petali fiocchi diciamo di grani integrali con del cioccolato ma sono veramente delle scagliette ce n'è uno ogni tanto per dire finiti anche questi grissini al farro del marchio Certossa quindi questi sono della Lidl sono buoni sono leggermente duretti ecco questo si sono leggermente duretti però il sapore a chi piace questo genere di cose quindi crackers al farro al kamut grissini queste cose qua sono degli snack li accompagniamo molte volte alla cena insomma ci troviamo bene anche con questi procediamo con le comuni fette biscottate integrali questa volta sono mulino bianco non sono il top per quanto concerne come dire ci sono tanti equivalenti alla mulino bianco che sono veramente veramente buoni quel giorno mi sono trovata ad acquistare questi della mulino bianco e quindi ho preso questi della mulino bianco ma solitamente ci riversiamo su quelle di Eurospin o della Lidl qui ancora con la sua bollettina che non devo buttare c'è un pacco di pane riservale questo è della linea tre mulini questo lo acquistiamo alla Lidl ogni volta anche di questo facciamo scorta perché è veramente un pane molto ricco di fibre anche questo lo facciamo in piastra lo mangiamo al naturale il sapore è leggermente mangiato così al naturale è leggermente secco un po' stopposo però se lo fate in piastra cambia totalmente quindi potete provare a farlo in questo modo un pacco di novellini che sono i classici biscotti delle linee dolciando quelli là al latte e al miele quindi dei semplici frollini che utilizzano i miei figli ogni tanto il mio amato bulgur questo è quello che ho acquistato a Livercop è coltivato in Italia anche questa è della linea bio se siete interessati a qualche video dove vi parlo specificatamente di questi prodotti fatemelo sapere nei commenti perché veramente lo utilizziamo in tanti modi facciamo tante ricette ci dilettiamo quindi se vi va fatemelo sapere che ve ne parlo più approfonditamente anzi avevo anche pensato a fare un video per quanto riguarda l'abc dei prodotti bio barra vegani se vi interessa fatemelo sapere procediamo con siamo quasi per finire perché già è tantissimo che parlo i mini burger al farro si commentano da soli questi praticamente due minuti e neanche in padella così senza olio e senza nulla quindi pertanto riscaldati e sono veramente buonissimi salva pranzo salva cena d'emergenza succhi di frutta querta solo quindi comuni brick di succhi di frutta un pacco non ci facciamo mancare gli originali allora adesso possiamo leggere come si chiama pavessini di pavessi pavessini di pavessi oh ragazzi ma sarà o no sarà pavessi cioè ma ci credete che non c'è scritto da nessuna parte è pavessi sicuramente pavessini pavessi e wow guardate quanta pubblicità che li stiamo facendo il nostro amato muesli questo qua è il master crumbler del Lidl strepitoso questo si che ha tutti i pezzettini di cioccolato veramente fondente cioè proprio si percepiscono in bocca i miei figli ne vanno matti per questo buio un altro simile pavessini ve l'ho mostrato già poco fa le tortine al farro anche queste ve le mostro in tanti video spesa sono stra stra buone le potete riscaldare anche nel fornetto le potete mangiare al naturale le potete farcire all'interno perché sono belle alte veramente buonissime actimel di danone questi spuntano così all'improvviso fermenti attivi della land insomma quei brick di succhi che a volte si portano anche ragazzi a scuola al gusto fragora a me non piacciono assolutamente mi vedete non mi vedete eccomi qua la luce è ritornata munino bianco cornetti integrali un flop incredibile questi invece sono i biscotti cereali della linea dolciando sono praticamente i gran cereali tale e quale noi ci troviamo bene sono senza olio di palma questi li trovate alla Lidl nel frattempo volano le cose le barrette della Lidl le classiche barrette di cereali con qualche pezzettino e con la base al cioccolato bianco li conoscete e straconoscete per continuare con invece queste che sono delle barrette tipo muesli alle nocciole molto compatte anche queste sono veramente buone anche se c'è del caramello del caramellato quindi insomma se uno snack una volta tanto ci può stare ma i suoi zuccheri i suoi grassi li contiene un'altra confezione di questo Lend che sono appunto quei bricchetti di succhi di frutta alle fragole a colform della Lend avete capito che ultimamente abbiamo bisogno di queste cose qui queste che aiutano addirittura il colesterolo un'altra molletta ma sono un gel e contiene la busta del pancarè il classico pancarè dell'amulino bianco anche questi allora i prodotti dell'amulino bianco li acquisto solo se sono di emergenza di fretta che magari non posso andare insomma in altri posti e se sono appunto a un buon prezzo li acquisto e via questa assolutamente bocciata da abolire ma da abolire in tutti i regimi alimentari dappertutto cioè ragazze la carne cimental carne dello sean carne di come in scatola assolutamente da abolire ancora mi domando perché ogni tanto la compro per loro che gli piace con la cipollina con l'olio l'origole insomma le fette croccanti della Lidl sono praticamente le classiche fette che ci sono sia alla crusca che al farro sono veramente molto buone hanno il sapore delle fette biscottate sono molto farinose questo sì con queste si può fare anche il tiramisù non ci crederete ma con queste si può fare il tiramisù ovviamente un tiramisù ipocalorico poi questo qua della Deco come vede spazio questo è uno su spesa di 100.000 marche 100.000 aziende della Deco non so se questa catena esiste anche in altre zone d'Italia comunque ho acquistato questo salmone norvegese affumicato era un prezzo strepitoso e l'ho voluto prendere il contenitore di tutte queste cose erano queste le pizze trembolini niente da dire sono stra stra buone sono cotte nel forno a legna sono con pomodoro 100% italiano ragazze provatele queste qua sono veramente buonissime sono anche grandi rispetto alle comuni pizze surgelate ho quasi finito il contenitore dei mie dei miei filtrini per la macchina del caffè questo sono del marchio chili caffè un espresso pod e sono le classiche cialde quelle là bianche nonostante le mie macchinette del caffè qualche volta la intravedete nei miei video in cucina è quella della Bialetti quindi a volte atterno le cappuse della Bialetti con questi qua queste invece sono le le tavolette per la vastoviglia della V5 alla Lidl sono veramente stra buone fanno il loro lavoro alla grande e per finire ragazze il nostro pane della McKenney americano il cellulite americano niente ragazze sommersa da queste praticamente carte finalmente adesso posso fare la mia differenziata e buttarle vi saluto vi ringrazio come sempre grazie a tutti i nuovi iscritti grazie a quelli che mi seguite se questo video vi è piaciuto ma so che vi è piaciuto perché me l'avete richiesta lasciate un bel like fatemi sapere nei commenti se vi va qualche video più approfondito su qualche prodotto specifico niente ragazze scappo perché tardissimo e devo andare anche al lavoro un bacio a tutte ciao ragazze ciao ciao